L'attività motoria è fondamentale per la prevenzione di tantissime malattie, cardiovascolari, cardiopolmonari, tumori, obesità. Questa attività risulta efficace solo se è affidata a personale competente e che ha fatto un percorso formativo specifico, ovvero i laureati in scienze motorie e i diplomati ISEF. La proposta del Movimento 5 Stelle va esattamente in questa direzione, per tutelare la salute delle persone che ogni giorno frequentano palestre e centri fitness. Un'altra proposta del Movimento 5 Stelle è quella di inserire l'insegnante di educazione fisica nella scuola primaria di ruolo, perché non esiste che nel 2014 l'Italia abbia i bambini più obesi in Europa nella fascia tra i 6 e i 9 anni. Come tutte le proposte del Movimento 5 Stelle, anche questa vuole sentire la voce dei cittadini. Infatti vi invitiamo a migliorare, a commentare, a modificare la vostra proposta di legge che poi verrà depositata e quindi sarà una proposta di legge creata con tutti i cittadini. Aiutateci! Aiutateci!